Sono due le persone indagate a seguito del sinistro stradale in cui sabato scorso hanno perso la vita sulla provinciale di Teggiano i due giovani di Polla, Terenzio Volonnino e Vittorio Isoldi. Si tratta dei conducenti delle altre due auto coinvolte nel sinistro, nei cui confronti si procede per omicidio stradale e lesioni personali gravissime, visto che, oltre ai due decessi, il bilancio dell'incidente annoverà anche cinque feriti, di cui uno grave, il 52enne di Teggiano alla guida della Jeep. Dei due conducenti, uno, il giovane alla guida della Punto, è risultato positivo all'alcol test. Per avere maggiori certezze su quanto accaduto e conoscere le relative responsabilità, bisognerà attendere l'esito dell'autopsia. Si dovranno aspettare i canonici 90 giorni perché vengano depositati i risultati. L'esame autoptico è stato eseguito dal medico legale Adamo Maiese nel pomeriggio di martedì presso il Luigi Curto di Polla, dove erano conservati i corpi dei due ragazzi e poi riconsegnati ai loro cari. Nel pomeriggio di mercoledì l'estremo saluto congiunto a Terenzio e Vittorio nella chiesa Cristo Re di Polla. Per la giornata il Comune ha proclamato il lutto cittadino, partecipando commosso al dolore delle famiglie straziate dalla tragedia. Il sinistro mortale ha coinvolto tre vetture. L'impatto sarebbe stato frontale tra la Jeep e la 500, poi finita fuoristrada su cui viaggiavano i due giovani. A finire fuori dalla carreggiata anche la punto con a bordo quattro ragazzi di Teggiano carambolata nel mezzo. L'alta velocità, la pericolosità della strada, più volte luogo di incidente e forse un sorpasso azzardato sono tra gli elementi di questa vicenda ancora da chiarire.